Difficile eh, come lettura è sta partita, difficile eh, difficile da analizzare, mettetevi nei miei panni. Questa è una partita che sarebbe, vabbè, sarebbe ottimo portarsi a casa perché per continuare la, comunque, tua piccola striscia positiva dall'inizio dell'anno, visto che è ripartito non male, di più. Però ragazzi, però tu sei a Roma contro la Roma, sei a Roma contro la Roma, una squadra che dall'inizio dell'anno non ha mai dimostrato di essere una squadra, diciamo, dirompente, che ti uccide lamorosamente in campo, però che sfrutta le occasioni, che sa sfruttare le occasioni, che sfrutta soprattutto i calci da fermo, i calci d'angolo, che noi, se vogliamo, possiamo anche soffrire perché l'attenzione dietro in difesa si è vista migliorare un minimo nelle ultime partite, ma dall'inizio dell'anno la difesa è stata il nostro pallino, il nostro pallino peggiore, cioè nel senso, quello che andava migliorato assolutamente. Vi chiederei di farmi un pronostio, se voi volete, questa è una partita delicatissima, giocato oltretutto di domenica sera a Roma, ripeto. Ragazzi, in campo penso che, se io voglio guardare i capelli, io se dovessi fare una formazione tipo forse metterei i soliti che si sono messi in campo con la Samp, perché alla fine levato qualcuno che magari, tipo ora c'è da valutare Martino e Squarta, se magari si è fatto male, è stato una botta, oppure magari per preservarlo si tiene fuori dal campo e quindi giocheranno per esempio Igor e Milenkovic, ma per il resto c'è da vedere se giocherà Terracciano, perché anche lui, ripeto, non era in campo, come dissi, nella partita dopo la Samp, proprio perché si era fatto male, perché Milenkovic gli era salito su un ginocchio contro il Sassuolo. C'è da valutare diversa roba, però comunque è dura ragazzi, non è per niente una partita facile, è una partita veramente, veramente, veramente difficile. La cosa oltretutto che mi fa paura è il fatto che Mourinho queste partite se le prepara, cioè Mourinho queste sono partite che non gliela metti nei culo facilmente, perché ha molta più esperienza di te, perché comunque conosce bene la squadra, l'è un anno e mezzo che ce l'ha sotto mano, ora è tornato Dybala ragazzi, Dybala a me mi fa una paura, Dybala a me mi fa una paura ragazzi, Dybala a me mi fa una paura, una paura incredibile. Poi magari sarà Zaniolo che si sveglia tutto insieme e farà tripletta da che ha fatto schifo fino ad adesso, però comunque, quello è un altro discorso. Sarebbe ottimo per il fatto che te, almeno così, tu ti rilanceresti definitivamente per la Corsa Europa, perché avresti mandato un messaggio al campionato in generale e perché comunque rispetto all'inizio dell'anno, alle prime undici dell'inizio dell'anno, hai fatto un grande passo avanti, grandissimo passo avanti. Però ragazzi ripeto, è la Roma a Roma, la Roma a Roma ragazzi è sempre una merda, la Roma a Roma è sempre una merda. Sarà una partita difficilissima, difficile ce la portiamo a casa, molto difficile ce la portiamo a casa, però io comunque ci credo. Io ci credo, ci credo. Poi ne se ne prende cinque come la Juve ieri sera, però io ci credo. Io ci credo perché comunque il gioco ci sa, bisogna essere un pochino più concreti, gli interpreti ci sanno in campo, anche se ci sa tanti assenti. È tornato un pochino Nico Gonzalez, è tornato un pochino Castrovilli. In campo giocheranno appunto, penso, i soliti della Samp e in attacco penso che giocherà Jovic. Sono quasi sicuro anche perché Cabral rimarrà in boxe e poi bisognerà vedere chi farà la società a gennaio perché penso che un innesto in attacco, anche così in prestito, ci si abbia bisogno perché giocare praticamente sempre Jovic e forse Guameco si di punta unica per due, tre mesi, non lo so. Comunque vorrei sapere ragazzi la vostra sotto nei commenti. Partita che comunque io me la sento, me la sento positiva. Se devo parlare onestamente penso che non si vincerà, però se devo essere diciamo concreto, però io ci credo. Ci si può giocare, ci si può giocare il cento per cento, anche un pareggio a me mi andrebbe bene. Però ragazzi bisogna dare il cento per cento, bisogna dare il cento per cento, basta cali di distrazione nei secondi tempi, basta, basta, perché si sono visti contro il Sassuolo e contro il Monza. Contro il Sassuolo c'è andata bene, contro il Monza no, quindi rientriamo in campo concentrati nei casi il primo tempo si fosse fatto bene, se no il contrario. E sempre forza viola ragazzi, sempre forza viola, sempre forza viola. Sosteniamola sempre e speriamo che ci porti a casa questi tre punti a Roma perché sarebbe un miracolo, un miracolo. Fateci iniziare la settimana con gioia, ragazzi, per favore. Sempre forza viola ragazzi. Ciao.